Ragazzi ogni tanto c'è la dimostrazione che Dio esiste Emilio Fede l'hanno cacciato da Rete 4 Probabilmente dopo che l'hanno beccato in Svizzera con 5 milioni di euro in una valigetta Probabilmente è stato quello E poi non dimentichiamo che insieme a Menele Mola lui è indagato per sfruttamento alla prostituzione Che bel paese è il merda che è questo ragazzi Ma poi ogni tanto alla fine vaga Ogni tanto alla fine vaga qualcuno Fino Scotto, Jay Axe and Friends Come noi